Ci sono, ma non si vedono. Oddio, perchè... sembrava che ti stessi buggando, invece stavo solo provando a spostarmi indietro, a muovermi di lato. Ha schivato... ha schivato un... ha schivato un... Ma i Doctis e leoti, principalmente, ma non ne uso parecchi. Ma mi ha pure sbagliato, vabbè. Dingness. E vabbè, ovviamente. Guarda il range, guarda il range, guarda il range. Cioè, io non lo so cosa devo fare con questo robo. E quindi non saprei dire per la PlayStation 4 normale se è anche peggio l'input lag. E cosa cambia, visto che è la stessa console? Non lo so, eh. Non lo so se la PlayStation 4 Pro, dal punto di vista di input, di delay, è un po' migliore. Non ne ho idea! Cioè, varia da gioco a gioco, però... Osserva! Fammi controllare a quanto è aggiornata, sta roba per cagare è un po' indietro, come il risultato più recente. Vabbè, qua risale, però... Cazzo, ma ma ha fatto l'off kick! Aspetta, dovete... Niente. Ah, sei Gilbert! Ora ho capito, dice! Ancora... Ancora riconosciuto! Eh... Ovviamente l'input lag è minore su PC, ma quello vale un po' per tutti i picchiaduro. Su Tekken dice che su Tekken 7 l'input lag su PC è di tipo... Pincia! Su PC Tekken 7 dice che è una bomba. E su PC va... C'ha la metà... Ha la metà della... Fanculo! Diamo pure io! Qui è... No, non dico a te! Non può piovere per sempre! È il mio lavoro qua, ma non ci stai più! Spero che lo lasci soffollo! Troppo lontano, non collega... Ehm... Già, ho sentito che è morta la killa, eh! Non bisogna... Non bisogna farlo avvicinare, Paul! Lo devi tenere a distanza! Dunque, Pauli! Come ti sembrano queste partite? Dopo qualche bestemmione, qualche tumore non tirato. Vabbè, io per fortuna con le bestemmie sono ancora indietro, va! No, modi di dire! Perché... A volte ci mettiamo a imitare i Tekken Emilia! Beh, che roba è? Ehm... Adesso mi devo imparare anche questo personaggio! Vedi, ti continuo, mossa e droppate! Adesso sono tutti i pessimistici di me! Che cosa fa sto personaggio? Ok, basta! Andiamo via prima che... Beh, Simone scoppi! Basta! Scoppiamo via! No, no, va bene! No, no, va bene! No, va bene! Ho capito! Ho capito! Ho capito! Aspetta, aspetta, Beppe! Beppe, salta il turno! Salta il turno! Sì, 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 sì! Perché non ha... perché ha saltato e non ha lasciato?! Sì, sì! Ah, ok! Cosa stavi facendo? Si! Com'era che dicevi l'attacco alla Dragon Ball, la... La lanciavi in aria! Oppure continuavi... Basso alto, basso alto! Basta una combo! Wow, sul serio? Ah, è la... Se mi hai trovato anonimo su stage qua! Non ci sono indipendenti da quello di Tekken 4! Cioè, tu mi stai prendendo per il culo o COSA?! Devi colpirlo! Oppure fai i peri basso! Cosa stavo facendo io secondo te?! Attacco alto o no? Abbasso subito lo devi fare! Oppure non sono peri basso! Ti abbassavi! Lasciamo la mossa veloce per punire! Senti! Cioè, è quello che si fa in genere! I terzi trimestri quanto sarebbe? Da giugno a settembre... Quindi a settembre dovrebbero arrivare i co-op di Blastained! Senti! Vai! Attacco la Dragon Ball! È droppata! Io non ci posso credere! Cioè, è il culo! Il culo! Cioè, bravo! Metti un pugnetto a caso quando c'è! Certo! Certo! Cioè, io quelli che premono tasti da lontano e funzionano, io non lo so! Io non lo so! Bravo Davide!